Barcellona, Palma di Mallorca, Provenza, La Spezia, Civitavecchia e Napoli è il tour inaugurale della nave più grande del mondo Symphony of the Seas che nel 2018 batterà tutti i record di dimensioni e che ha fatto tappa da questa mattina al molo Garibaldi per segnare l'ennesimo primato dello scalo spezzino. Lunga 362 metri, larga 47, 230.000 tonnellate di stazza lorda e 16 ponti, la nave può contenere 6.680 passeggeri e 2.390 membri dell'equipaggio. Si tratta della quarta gemella della classe oasis di Royal Caribbean che ha cominciato a sorcare le acque del Mediterraneo solo da pochi giorni per quello che è il suo tour inaugurale. Nave numero 26 della flotta Royal trascorrerà la stagione estiva del Mediterraneo e raggiungerà poi Miami nei primi giorni di novembre per iniziare i itinerari dei sette notti nei Caraibi a partire da sabato 17 novembre. La nave vanta molte delle innovazioni rivoluzionarie e delle esperienze emozionanti che hanno ottenuto riconoscimenti a livello mondiale a bordo di Harmony of the Seas che prima di Symphony poteva vantare il primato di nave più grande al mondo. Come le gemelle propone sette quartieri in cui spiccano il primo parco a cielo aperto sul mare con più di 12.000 piante e lo scivolo più alto mai costruito sul mare. E tra le novità propone la Ultimate Family Suite, maxi cabina familiare da otto persone su due piani con parete da arrampicata, scivolo, una parete di mattoncini Lego e hockey da tavolo.